Ciao ma, se vedemo dopo, non faccio tardi. Sta' attento, me risponne mi madre. Sto attento sì, certo che sto attento. Quando a piedi attraverso una strada, quando a volante me fermo corgiallo, quando bevo solo qualche analcolico, quando m'hanno giù solo il ghiaccio masticato, è certo che sto attento. E sto attento pure per gli altri. Stasera volevo solo mettere fine a una discussione, volevo solo mettere pace. A me di litigare non mi piace. Ah ma, sto monno è proprio strano. Ho fatto qualcosa di sbagliato. Che dici, ma? O forse so io quello sbagliato per sto monno. Ah ma, sto stato attento. Però non m'aspettà stasera. Ci piaceva iniziare questo speciale con la lettura di questa poesia bellissima che hanno recitato durante il funerale di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo di origine capoverdiana ucciso di botte per aver cercato di sedare una lite. Il 5 settembre a Colleferro, una cittadina alle porte di Roma. La vittima, appena 21enne, sarebbe stato accerchiato da 4 o 5 persone dopo il suo tentativo di fare da pacere nel corso di una lite per futili motivi dopo le due di notte. Una cordialissima buona serata alle nostre telespettatrici e ai nostri telespettatori sintonizzati sul canale 633 di Rossini TV, visibile in tutta la regione Marche, ma anche a tutti i nostri amici che in questo momento ci stanno seguendo dalla pagina Facebook e dal nostro sito internet. E questa sera abbiamo in studio un vero e proprio parterre de roi, che ringrazio vivamente per aver raccolto il nostro invito a parlare di un tema di grande attualità. Con immenso piacere e, lasciatemelo dire, un pizzico di orgoglio, presento i nostri ospiti che ci stanno onorando della loro presenza qui. La professoressa Giuliana Ceccarelli, assessore alla gentilezza e dalla crescita, con delega ai servizi educativi, scuola, pari opportunità e lotta all'odio. Buonasera professoressa, grazie di essere qui. Grazie a tutti voi, grazie dell'invito. L'Arcivesco della Dioce di Pesaro, Monsignor Piero Coccia e il magnifico rettore dell'Università di Urbino, il professor Virberto Stocchi. Buonasera. Aggiungo un ringraziamento particolare anche al nostro Giorgio Ricci, amico di Una Vita e collega di Rossini TV che ha fortemente voluto che si realizzasse questa trasmissione. Grazie Giorgio di averci suggerito questa importante iniziativa. Allora signori, io aprirei non tanto il dibattito quanto la nostra chiacchierata qui questa sera, perché veramente questi fatti come quello che si è verificato al Willy con le ferro si stanno ripetendo ormai molto spesso. Oserei dire ormai quotidianamente perché ogni volta che accendiamo la televisione o ci colleghiamo su un sito online di notizie vengono riportate quotidianamente questa efferatezza. Per fortuna non sempre con la stessa barbarie e brutalità. Cos'è cambiato nella nostra società? Fatti simili sono sempre successi da che mondo è mondo e non se ne dava notizia? Oppure veramente stiamo vivendo un periodo in cui la violenza senza motivazioni, un folle delirio di marcatura del territorio scimmiotato da qualche serie televisiva? Professoressa. Ma indubbiamente c'è una esasperazione, un'esasperazione delle condotte di questi ragazzi in un mondo in cui la normalità non va più di moda. L'essere amici, l'essere comprensivi, l'essere attenti, l'avere cura di chi è meno fortunato o semplicemente del compagno di banco o della compagna di banco non fa più effetto. Fa effetto invece questa supremazia della forza, della capacità che ciascuno cerca di, secondo cui ciascuno cerca di imporre la propria volontà e il proprio essere. È un po' un dominio, un desiderio di dominare l'altro che non ci fa bene, non fa bene alla nostra società e sulla quale la scuola, dire il vero, poi lo diremo in maniera approfondita, sta lavorando molto. Credo che ci sia un grande bisogno di ritrovare il senso della comunità, il senso dello stare insieme, il senso di capire l'altro ma per capire anche se stessi, il costruire la propria personalità in funzione dell'aiuto e della capacità di relazione che ciascuno di noi deve riuscire ad espletare nel rapporto con l'altro. Arcivescovo, la sua opinione in merito? Anch'io credo che certamente la cultura è cambiata, la cultura delle relazioni, mentre nel passato, almeno nell'Occidente, ma anche in altre realtà, c'era una cultura costruttiva, positiva, una cultura appunto come diceva l'assessore della comunità che vuol dire condividere un dono, il dono della vita, oggi le situazioni sono profondamente culturalmente modificate. C'è questa cultura del forte individualismo, della supremazia che poi sfocia anche nella violenza. Quindi questo fatto culturale incide fortemente soprattutto nell'animo dei giovani, persone che sono in cammino formativo e persone anche che hanno maggior fragilità, per cui certi modelli vengono imitati come gli unici. C'è un po' questo delirio, come si suol dire anche nell'attuale ricerca sociologica, dell'onipotenza. Io credo che dobbiamo tutti ritornare indubbiamente a quel senso reale che è anche un senso del limite e quel senso del reale che ci porta anche a una relazione diversa, appunto, dicevamo, costruttiva, positiva, una relazione che ci consente di crescere e di far crescere la comunità nel suo insieme. Professor Stocchi, l'università è un trampolino proprio di lancio per le parole che ha appena citato il nostro Vescovo. Sì, l'università è il luogo dove si cresce nella conoscenza, dove si trasmette conoscenza, dove si educa. Però tornando alla sua domanda, sicuramente oggi sono tante le situazioni di disagio che si osservano nella nostra società. Credo in parte molte di queste situazioni derivano anche dai tanti messaggi che ognuno di noi oggi riceve e molti di questi messaggi sono messaggi disorientanti. Quindi c'è probabilmente anche una difficoltà nel giovane di individuare le cose che hanno valore. Perché poi, purtroppo, anche nelle situazioni tragiche a cui faceva riferimento, si fa male agli altri, si fa male a se stessi. Quindi non è che ne usciamo migliori. Allora c'è una grande necessità di educare. Allora da questo punto di vista è vero che ci sono situazioni di disagio, ma io posso testimoniare che all'interno dell'università ci sono anche tanti giovani responsabili, attenti, desiderosi di crescere e di costruirsi un futuro. Quindi sì, le cose negative appaiono in maniera più evidente. Sappiamo tutti che magari le cose buone fanno meno scalpore. Però, ecco, inviterei tutti anche a credere fortemente nei nostri giovani. Ecco, mi riallaccio proprio, professore, alle parole che lei ha appena menzionato. Abbiamo in questo momento una palude digitale che continua a fermentare e il suo ribollire porta a superficie il peggio della natura umana. Lo strazio continua a rimbombare attraverso la rete dove alle tante accorate testimonianze di dolore si sono affiancate espressioni di solidarietà agli efferati carnefici. La feccia del mondo virtuale ha sentito il dovere di gridare a gran voce i propri complimenti per la missione andata a buon fine. Facebook è diventato un megafono per dar voce a chi fa il tifo per questi moderni gladiatori senza cuore. Tra l'altro tutti i profili tracciabili. Non intervenire sarebbe la consacrazione di internet come un inferno e dei social come il più terribile dei gironi. Sì, purtroppo se poi si verificano anche queste situazioni è chiaro che tutto ciò è aberrante perché è contrario al rispetto dell'altro, a stabilire delle relazioni e quindi avere insieme dei percorsi. Se tra i giovani, poi in questo caso la situazione riguarda veramente dei ventenni, porta a queste manifestazioni così efferrate, significa veramente che è stato instillato qualcosa di molto negativo in questo percorso formativo. Come dicevo prima, questo negativo che può essere presente in ciascuno di noi e che magari contraddistingue anche questi atti, porta a fare tanto male agli altri come è successo nel caso di questa famiglia che ha perduto Willy, ma in realtà se noi riflettiamo fa tanto male anche a chi è stato responsabile di questo. Quando ci sarà un momento di presa di coscienza, quando magari tutta questa esteriorità, questa cosa che è stata costruita in maniera abnorme, scontrandosi con le cose vere dimostrerà tutta la nullità, addirittura anche tutto quello che di male è stato fatto. Monsignore, la posizione della Chiesa sull'uso dei social? In questa vicenda chiaramente mi pare che l'espressione più chiara l'abbia pronunciata il vescovo di Tivoli che ha celebrato il funerale di questo ragazzo quando ha detto «quì tutti siamo perdenti». È vero, penso proprio che in questa frase ci sia la fotografia di una realtà. È chiaro che il mondo mass mediatico oggi domina e dobbiamo fare i conti con questa realtà, ma soprattutto dobbiamo educare a un uso positivo di questa realtà. Certo è che dipende molto da chi ha in mano questa possibilità e quindi c'è un processo educativo anche di coloro che gestiscono questa realtà. Io credo che indubbiamente il mondo dei mass media costituisce a volte qualche difficoltà o forse più di qualche difficoltà, però costituisce anche una grandissima opportunità. Come sempre il mezzo è neutrale ed è neutro, dipende da chi lo gestisce. Quindi anche la Chiesa non è che si scagli contro questa realtà oggi dominante, ma cerca di educare, di formare le coscienze ad un uso retto e dicevamo poco anzi costruttivo di questa realtà. Nel passato non era così perché questi livelli non c'erano, c'erano altre forme. Oggi il mondo mass mediatico è dominante, poco da discutere e allora l'importanza è quella di educare coloro che gestiscono queste esperienze nel migliore dei modi, in maniera appunto diciamo positiva e costruttiva per il bene cosiddetto comune, che ricordiamo è il bene di tutti e di ciascuno e che viene costruito con il contributo di ciascuno. Professoressa, la scuola riesce a dare un contributo, mi riallaccio sempre alle parole che ho appena ascoltato, un contributo operativo, quasi concreto, reale nell'indirizzare i giovani all'uso di questi social. Può fare qualcosa la scuola? Ma sì, indubbiamente, sì perché può cogliere, come ha detto Monsignore, la capacità creativa che possiamo individuare nei social, ma io voglio tornare ancora ad un passato recente. I problemi del bullismo nella scuola, ad esempio, sono sempre esistiti. L'occhio attento del docente, del dirigente scolastico riesce a cogliere quella fase, quel passaggio della cattiveria, quella che normalmente è così esplicita nel fatto che stiamo commentando. Il docente e il preside, se si guarda intorno nelle proprie classi, lo coglie immediatamente. E allora noi abbiamo una grande chance come scuola, ed è quella di chiamare questi ragazzi ad un ascolto di un'altra realtà. Noi dobbiamo offrirgli l'altra sponda, l'altra realtà, che è quella appunto della solidarietà, del vivere insieme, della comunità, del far crescere insieme gli aspetti valoriali. Oggi ridiamo se parliamo di valori. Molti ragazzi ci fanno una risata quando andiamo a parlare di fede per chi ci crede, di solidarietà, di vicinanza, di cura, eccetera, eccetera. Ma noi dobbiamo essere in grado, appunto perché siamo persone di scuola, di avvicinarli sempre di più a questi aspetti valoriali. Io penso che ci sia fondamentalmente una povertà educativa anche familiare. Su questo dobbiamo assolutamente non far cadere il muro dell'omertà. Con le famiglie dobbiamo ritrovare una capacità di dialogo che sia alternativa a quella della semplice informazione. Quindi io penso ad un concetto che era emerso ad un convegno che abbiamo fatto a Pesaro sui ragazzi interrotti, appunto sui ragazzi che facevano uso di droga, eccetera. Dobbiamo ritrovare un welfare comunitario che coinvolga queste famiglie ad un percorso di crescita insieme. Da soli non andiamo da nessuna parte. Su questo l'abbiamo capito, i social poi ce lo dicono e a maggior ragione noi che ci lavoriamo in mezzo a questi ragazzi. Allora insieme alle famiglie noi abbiamo questa grossa chance di rimetterci insieme e di parlare di valori e di cose reali che costruiscono il nostro essere, il nostro intimo, la nostra spiritualità. Oltre ovviamente al fattore della conoscenza. La scuola deve dare questa grossa spinta verso la cultura e la conoscenza. Questi ragazzi che hanno questi sbocchi così violenti probabilmente della cultura non ne hanno mai saputo niente. Non hanno avuto mai la possibilità di entrare in un percorso di conoscenza reale perché solo conoscendo noi riusciamo a capire che l'altro è meglio di me o perlomeno come me. Quindi è sicuramente un cammino che possiamo fare, che la scuola può fare ma insieme alle famiglie, insieme all'amministrazione. Non da soli perché da soli facciamo poca strada. Buon signore, la Chiesa può unirsi a questo appello che ha appena fatto la professoressa Ciaccarelli? Credo proprio di sì. Per la Chiesa il soggetto famiglia è stato sempre un soggetto primario a tutti i livelli. E anche a tutt'oggi dove la famiglia viene vista sotto diverse angolazioni, per la Chiesa la famiglia rimane il primo soggetto educativo, non il solo. E quindi c'è un impegno continuo da parte della Chiesa a coinvolgere le famiglie nei cammini, dicevamo, educativi, per noi anche nelle esperienze della fede, perché ci rendiamo conto che il dato naturale di formazione parte dalla famiglia. Chiaramente poi ci sono altri soggetti, c'è la scuola, ci sono i gruppi sportivi, ci sono altre realtà, però tutti, come diceva poc'anzi l'assessore, tutti dobbiamo prendere coscienza che l'educare è un fatto di comunità. Certo ciascuno per le proprie competenze, però dobbiamo, come si suol dire oggi a volte anche in forma un po' abusata, tutti dobbiamo tendere a questa alleanza educativa. I tempi ce lo impongono, non abbiamo alternative. E anche la famiglia dovrà forse riprendere questo suo ruolo dal momento che, per tante ragioni, per un sistema di vita che è cambiato, è lavorativo e altro, a volte la famiglia delega, a volte la famiglia è latitante e allora occorre insistere perché la famiglia ritrovi il suo ruolo di soggetto educativo insieme ad altri soggetti. Lo stiamo facendo per quello che ci è consentito anche in un contesto culturale molto più problematico del passato. Dobbiamo anche tener conto di questa realtà, però ciò non ci autorizza a desistere da questo impegno preciso, determinato e mirato. Professor Stocchi, la cultura, l'università è un altro contesto educativo che si può affiancare alla scuola e alla famiglia. Cultura proprio in senso lato intendo. Sì, certamente. Durante il percorso formativo i ragazzi dall'adolescenza terminano le scuole superiori e si affacciano al percorso universitario. Il percorso universitario, dicevo prima, è un crescere nella conoscenza, ma vorrei specificarlo. Crescere nella conoscenza della verità. Allora, crescere nella conoscenza della verità significa anche riconoscere i valori, a cui faceva riferimento prima sia l'assessore che il suo eccellenza. Riconoscere i valori, aveva ragione su eccellenza quando diceva che magari 30-40 anni fa noi vivevamo in una situazione diversa anche come comunità. Ma riconoscere i valori oggi non significa lasciare questa parola vuota, significa riconoscere il valore dell'onestà, della sincerità, della lealtà. Poi, ovviamente, il percorso che viene fatto all'università è anche un crescere nella conoscenza di aspetti che contribuiranno a definire il percorso professionale. Allora, il lavoro che si può fare, che viene fatto all'università, è un lavoro di crescere nella conoscenza della verità, che ovviamente è una parte di conoscenza, che può essere quella scientifica, letteraria, eccetera, perché poi l'uomo è qualcosa molto di più. Quindi anche il lavoro fatto all'interno dell'università può portare un contributo, ma poi c'è uno sforzo aggiuntivo che va fatto, che deve cercare un po' di tenere conto di che cos'è l'uomo. Quindi se noi pensiamo che è formato soltanto da cellule, indipendentemente che uno abbia fede o meno, è una visione molto limitata, cioè l'uomo è molto di più questa capacità creativa, questa capacità di fare anche tante cose buone, di costruire. Ecco, il bene costruisce, il male distrugge, questa è la situazione reale, cioè anche prendere coscienza di queste due situazioni che sembrano ovvie, ma credo che sono altrettanto importanti. Ecco, sottolineerei il fatto, se mi permette, universitas magister vite. Esatto. Proprio è un iniziare, un percorso dove uno riceve tanti stimoli, ma quel percorso poi continuerà nella vita di ognuno di noi. Sicuramente io posso affermare che non mi ha mai caratterizzato come dire l'essere un po' pieno delle cose che riuscivo a fare, però posso testimoniare che negli anni, come dire, se posso dire una cosa, il mio atteggiamento per quanto riguarda, come dire, l'atteggiamento nei confronti della conoscenza mi pone sempre in una posizione sempre di maggiore umiltà, perché questo è quello che uno può constatare crescendo nella conoscenza. E non si finisce mai di imparare. Sarà una frase banale, ma... È vero. È vero. È vero. Professoressa, gli arrestati avevano in corso un altro tipo di problema. Erano recidivi. Non so, questo l'avrete sicuramente appreso ultimamente. Erano, avevano già massacrato di botte un altro giovane e erano oggetto di indagini già da tempo di fronte al Tribunale di Velletri, sempre per lo stesso motivo. La giustizia non ha fatto il suo corso? Come riusciamo a fermare individui così pericolosi? Faccio un attimo, chiudo a parentesi, il processo si era fermato a causa del Covid, purtroppo. Sì, sicuramente c'è un qualche problema di giustizia, ma c'è anche un problema di omertà di una zona, di un quartiere, di una città, perché questi ragazzi che vengono considerati comunque degli eroi del quartiere, perché avevano un comportamento così libertario, feroce, così cattivo nei confronti degli altri, c'è un complesso sociale del quartiere che sicuramente va rivisto. Anche lì sicuramente la scuola, la parrocchia, i gruppi sociali di aggregazione devono avere la loro parte. Sul discorso della giustizia non mi cimento, perché ovviamente è una parte che non conosco. Io però dico una cosa, ci sono tante realtà anche di amministrazione, adesso io parlo ovviamente dell'amministrazione pesarese, che affronta queste problematiche ad esempio attraverso progettualità con sportelli di ascolto, gli sportelli da scorso verso le famiglie che si trovano in difficoltà. Noi abbiamo la maieutica con la gestione dei conflitti guidate dal centro pedagogico di Piacenza, abbiamo l'educazione ai sentimenti che portiamo avanti con un professore fra l'altro dell'Università di Urbino, quindi bisogna che ogni nucleo sociale, Roma poi ha tanti quartieri, quindi è tanto grande, ogni nucleo sociale deve farsi carico dell'educazione di tutti questi giovani. Io non riesco a capire come, ma lo dico veramente da persona che ormai ha fatto un percorso di insegnante decennale, sono stata preside per tanti anni, ecco io non riesco a capire come si possa credere che quella sia l'atteggiamento vincente di un nucleo sociale, appunto di una comunità. Non riesco a capire come possa diventare, però confesso la mia ignoranza in questo senso, come quello possa diventare l'esempio per i nostri ragazzi, quando l'esempio dovrebbe essere invece quello di stare attorno ad una fontana di una piazza a discutere, a ridere, a darsi le battute oppure a ballare, ma non la forza brutta che hanno utilizzato per far valere quello che loro ritengono un diritto di supremazia. O trascorrere delle sane ore in oratorio, Monsignore, come facevamo noi quando eravamo ragazzini, che tutto il tempo lo passavamo nel campetto di Cristo Re, io almeno parlo per me, e Domei da sopra ci diceva cosa dovevamo fare o cosa non dovevamo fare, ma adesso a parte le battute, un campanello d'allarme nella nostra diocesi, lo percepisce o siamo scevri da questo pericolo, Monsignore? No, indubbiamente da quello che riesco a capire, vivere soprattutto perché sono collocato in questo contesto, in questa città, in questo territorio. Pesaro è una realtà sufficientemente tranquilla, però non si è mai tranquilli per i tempi in cui viviamo e soprattutto per questa capacità del mondo massmediatico di influenzare anche zone virgolette tranquille. Quindi il campanello d'allarme è pronto, non è che dobbiamo fare allarmismi pur dicendo che Pesaro per tanti fattori, anche per la sua storia, anche per un tessuto umano e sociale ben compaginato è una zona tranquilla, è un territorio abbastanza tranquillo, ma ormai non viviamo più nel villaggio, viviamo nel villaggio globale e quindi siamo tutti influenzati e influenzabili da realtà che vengono anche da altri pianeti, figurarsi dalla realtà di Velletri. Quindi bisogna sempre tenere il livello di guardia molto 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 alto e quello che ci diciamo sempre con i sacerdoti, che vivono in mezzo ai ragazzi, con gli operatori pastorali, perché anche noi come sacerdoti non è che disponiamo più della quantità numerica di un tempo, oggi ci sono tanti laici che danno il proprio contributo e che fanno una grande opera educativa. Però aggiungo anche quello che diceva poco anzi l'assessore, che è già sottolineato il magnifico rettore, occorre educare a tornare alla verità piena dell'uomo, al di là dell'informazione occorre l'educazione e tutto questo presuppone anche il trovarci tutti i soggetti educativi coinvolti in quella che a volte si dice la grammatica comune e cioè la realtà umana, così come dalla natura ci perviene. Quindi ogni volta che strumentalizziamo andiamo fuori pista, a quel punto dobbiamo poterci attendere di tutto. Comunque Pesaro la sua parte positiva la sta facendo per tante ragioni. Al rettore invece rivolgo la domanda, girando la problematica su Urbino e se ci sono dei segnali all'interno dell'Ateneo e poi la prego, visto che sia l'assessore che il Monsignore hanno, diciamo, schippato la domanda, ritornare sul corso della giustizia. Sì, allora ha ragione su eccellenza quando dice di mantenere alta l'attenzione in ogni luogo e quello che si sta facendo anche in Urbino perché è un luogo dove abbiamo più studenti che abitanti e dove la presenza di studenti in realtà in alcune serate, normalmente in Urbino è giovedì sera, questa movida, vede la presenza di tanti altri giovani, non studenti, la maggior parte proveniente dalla costa ma non solo, anche dall'entroterra. Quindi questa è una dinamica che ha alzato un po' il livello di attenzione. In Urbino sono state adottate delle ordinanze proprio per cercare di tenere. E' chiaro, bisogna mantenere alto il livello di attenzione perché lo sguardo non è solo rivolto agli studenti ma anche ad altri che in un qualche modo vedono il luogo come un luogo dove possono incontrare ragazzi, ragazze eccetera e allora in questa dinamica si possono anche creare situazioni che potrebbero anche sfociare in criticità. Grazie a Dio, fino ad oggi questa situazione come dire non ha evidenziato particolari criticità però sono d'accordissimo con Sua Eccellenza di mantenere alta l'attenzione e pronti il campanello d'allarme. Qui occorre fare qualcosa, qualcosa che noi abbiamo anche fatto proponendo delle attività ai nostri studenti, spettacoli, concerti, iniziative, cioè impegnare i ragazzi perché già questo è qualcosa di estremamente importante, cioè quando i ragazzi non hanno delle opportunità ovviamente si possono creare situazioni magari non sempre consone. La sua domanda sulla giustizia, anche io credo che in questo ambito come dire la giustizia deve fare il suo corso, mi riferisco a chi ha le responsabilità, auspico fortemente che il livello di attenzione possa essere anche alto, purtroppo non solo in questo caso ma anche in tanti casi di femminicidio abbiamo potuto constatare che anche ripetute segnalazioni non sono state colte nella maniera adeguata, può dipendere da tante situazioni, è chiaro, dobbiamo come società alzare il livello di attenzione e se mi permette io presterei attenzione anche ad un altro aspetto importante parlando dei giovani, cioè la nostra società, il nostro governo, i nostri politici devono preoccuparsi seriamente di creare delle prospettive vere di lavoro per i giovani, nel momento in cui queste prospettive vengono meno o aumentano le difficoltà è chiaro che si possono osservare altre situazioni, quindi c'è anche una responsabilità forte della politica, io questo l'ho sottolineato già molti anni fa, poi questa cosa è stata ripresa, la ripresa del Santo Padre, cioè la mancanza di un lavoro che dà dignità alla persona e in un qualche modo lo avvia anche ad un percorso, chiamiamolo, ordinato, tra virgolette, chiaramente viene meno se la società poi non dà queste risposte, quindi un augurio grande è davvero che i nostri politici siano tutti sempre al di là delle appartenenze particolarmente attenti a creare nuove opportunità di lavoro perché poi sono il futuro davvero del nostro paese e di ogni società. Professore, lei proprio mi ha lanciato l'amo, io ne approfitto adesso per rivolgere la prossima domanda che non mi ero preparato ma mi ha proprio servito l'assist. I quattro ragazzi, professoressa, ricevevano il reddito di cittadinanza. E questo vuol dire che non c'è un controllo accurato su questi aspetti che veramente, noi ad esempio quando abbiamo dato il contributo come comune adesso durante il periodo del Covid è chiaro che c'era la fretta di aiutare le famiglie, però appena consegnato e quindi veniva fatto su un'autocertificazione alla consegna del bonus, però subito dopo c'è stato un controllo e quindi la cosa è stata immediatamente valutata. Ecco, qui evidentemente è mancato questo, è mancato questo controllo. Io però volevo puntualizzare anche un altro aspetto che mi sembra molto importante e che fa il paio un po' con quello che ci siamo detti oggi. L'attenzione alle diversità individuali. Noi abbiamo sicuramente un grosso handicap ed è quello di pensare che la diversità, che tutti devono essere uguali a noi per essere accettati nella società. Non è così. Io che ho fatto parte per tanto tempo di un gruppo di integrazione e di inclusione dei ragazzi disabili, ho guidato un po' il lavoro dell'inclusione nelle scuole e della diversità, quindi dei ragazzi disabili, mi sono resa conto da subito, ma da quando sono entrato a scuola, di come sia importante cogliere le diversità invece di tutti, perché diventano una ricchezza, non uno sminuire la società in quanto tale, ma una ricchezza perché mi porta a un qualcosa in più rispetto a quello che io ho. Questo è sia ovviamente per il ragazzo disabile, ma sia per tutti i ragazzi che dimostrano una... adesso abbiamo questo problema con lesbiche, gay, eccetera, ma è l'uomo, è l'uomo, è la donna e quindi come tali vanno rispettati, indipendentemente da quella che è la loro appartenenza. Noi abbiamo perso di vista fondamentalmente quello che è il nucleo centrale dell'essere su questa terra, cioè l'essere delle persone che devono assolutamente, con tutti i mezzi che il Signore ci concede, vivere il senso di comunità e quindi considerarci in effetti come persone accettate da Dio, per chi ci crede o per chi crede in un altro o abbia un altro fede, sia semplicemente un laico. Allora, se riusciamo a cogliere questo senso profondo dell'essere qui, in questa terra, riusciamo a vederne fuori, perché abbiamo dalla nostra parte un grande dono che è la vita e questa vita va apprezzata sicuramente per tutto il bene che ci viene dato. Monsignore non può che essere allineato su questo pensiero, immagino. Sì, faccio una battuta, il nostro assessore mi ha tolto il mestiere, ma lo faccio volendo dire perché ci conosciamo e so del suo impegno e delle sue convinzioni e la ringrazio. Indubbiamente tutto questo ci trova consensienti, però ci trova anche su un fronte di necessità che già ho accennato poc'anzi, che è quello di ritrovare quel nucleo fondamentale che appunto la vita in questo rapporto però tra creatore e creatura. Quando perdiamo questa relazione può accadere di tutto. Quando non siamo più nell'ordine della creaturalità, ma ci sentiamo soggetti creatori, c'è posto per tutto, per la violenza, per la sopraffazione, per l'egoismo, c'è posto per tutto. E allora bisognerà ritornare a questo punto centrale. La vita è una realtà primaria e come tale non si discute. La vita ha una sua dignità universale, al di là delle esperienze religiose e di appartenenza o altro, ma la vita ha bisogno di questa relazione tra colui che crea e colui che è creato. Occorre tenere in piedi questo parametro perché tante proporzioni, tutte le proporzioni della vita, siano valutate nella maniera giusta e adeguata. Professore, l'ultima domanda, siamo in conclusione, il tempo è tiranno come al solito. Come possiamo evitare che queste situazioni si ripetano in futuro? A chi si deve rivolgere, a chi ci si deve rivolgere per preservare i nostri giovani, i nostri studenti, i nostri adolescenti, professoressa, affinché altri valori siano l'architrave della loro educazione? Ma quello che mi viene spontaneo dire, perché uno potrebbe pensare che devono essere altri ad occuparsi di questo, io credo che questa è una domanda che interroga ciascuno di noi. Interroga ciascuno di noi perché ognuno di noi può portare un contributo, soprattutto se poi riesce a collocare questa situazione in quello che diceva prima su eccellenza, cioè anche nel comprendere, perché anche queste sono cose vere, le diverse realtà della persona e magari di chi ci ha donato la vita. Quindi bisogna partire da ognuno di noi, cioè ognuno di noi deve essere il più attento possibile, ognuno di noi può portare un contributo, se questo messaggio si diffonde è chiaro che automaticamente è la società che cambierà, è la società che sarà più attenta anche alle cose che diceva prima l'assessore, dove magari in un quartiere, in una realtà sociale si evidenziano situazioni di criticità, saranno immediatamente colte, avvertite, si potrà intervenire, quindi non è facile, però questa sua domanda per quanto mi riguarda mi interpella in prima persona, io credo che dovrò pensare a cosa fare per evitare che questo possa capitare, ovviamente nel mio luogo, nel mio piccolo, nella mia realtà, ma se questo si diffonde sarà un contributo importante. Professoressa. Ma guardi, io rispondo sicuramente alla scuola, la scuola almeno nel nostro contesto cittadino, ma anche a livello provinciale sta facendo un gran bel lavoro, ad esempio con tutta la rete delle scuole sulla legalità, con tutti gli incontri che si fanno, la Shoah ad esempio negli ultimi anni ha visto un riportare alla luce non tanto il raccontare giustamente quello che ha avvenuto con lo serminio degli ebrei, ma prendere spunto da quell'idealità, come ha detto Liliana Segre, per fare, per riportarlo al giorno d'oggi e dire che l'indifferenza non deve vincere e quindi dobbiamo riuscire attraverso il colloquio che avviene continuamente all'interno delle classi, con dei professori peraltro illuminati, perché abbiamo dei bravi docenti, anche dei bravi docenti nelle nostre scuole, a riprendere il dialogo continuo con questi ragazzi, noi dobbiamo parlare loro e ascoltarli molto, su questo credo che siano due caratteristiche sulle quali non dobbiamo, noi soprattutto che siamo insegnanti, che facciamo parte del mondo della scuola, non dobbiamo assolutamente, non possiamo dimenticare, non dobbiamo abbandonare. Monsignore, l'ultima domanda, l'indifferenza non deve vincere, perché c'è tanta indifferenza in questo momento nei confronti degli oratori, delle parrocchie e del mondo religioso? Ma c'è un'indifferenza dovuta anche qui a situazioni storiche che si sono prodotte, dove la dimensione appunto culturale in senso lato ha giocato e gioca un suo ruolo, però voglio anche dire che sì, c'è questa indifferenza per certi aspetti, però anche c'è una tanta attenzione a recuperare il valore della fede. Quando torneremo ad occupare gli oratori, come una volta? Ma adesso la parola oratorio dobbiamo dare un significato più ampio. Perché io ho 54 anni, quindi sono rimasto a quei tempi lì. Gli oratori vanno divisi anche secondo tipologie. 30 anni fa, 40 anni fa c'era un certo tipo di oratorio, oggi abbiamo altri modelli e se oratorio vuol dire luogo di formazione, allora diciamo che la Chiesa da sempre è oratorio, lavora per l'oratorio, lavora con l'oratorio. Certamente, poi ci sono delle specificità, anche il campetto di calcio a cui lei faceva riferimento, è l'oratorio del tempo, oggi magari ci saranno altre modalità, però la Chiesa su quel fronte ci sta e sa anche che il suo impegno primo è appunto quello educativo e formativo per trasmettere l'esperienza della fede. Quindi l'oratorio di per sé non è mai morto, è un oratorio che ha subito nel corso della storia tipologie diverse, modificazioni diverse, però nello scopo e nella finalità è quello educativo è sempre c'è stato. Io voglio anche aggiungere che qui abbiamo una responsabilità che non va solo delegata a soggetti unici, ma chiede un contributo di tutti gli stessi soggetti coinvolti nell'educare, come già è stato detto e condiviso da parte del magnifico rettore e da parte dell'assessore. Io ricordo sempre con piacere un fatto, un episodio, Benedetto XVI tornando da uno dei suoi viaggi apostolici sull'aereo che lo riportava in Vaticano, in Italia, fu interrogato da giornalisti dicendo ma le cose non vanno proprio bene, santità carissima, da dove dobbiamo cominciare? I soliti giornalisti. E allora Benedetto XVI rispose con una frase di Santa Teresa di Calcutta, bisogna cominciare da me. Quindi questo è l'augurio anche che rivolgo a tutti noi, come ci diceva il magnifico rettore, ognuno fa la sua parte, poi tutto questo ha un potere di contagio nell'intera comunità e per la stessa comunità. Perfetto, allora con l'augurio di ritornare a ripopolare, mi permetta di usare questo verbo, ripopolare gli oratori. Ringrazio i nostri illustrissimi ospiti che ci hanno accompagnato in questa serata, l'assessore alla gentilezza, la professoressa Giuliana Ceccarelli, il magnifico rettore dell'Università di Urbino, il professor Virberto Stocchi e sua eccellenza Monsignor Piero Coccia, arcivescovo della diocesi di Pesano. Buona serata a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.